Che vuoi? Gossip uomini e donne, Lorenzo nei guai con Sara, la clamorosa segnalazione Uomini e donne gossip news, Sara e Lorenzo, nuova segnalazione scottante A cancelletto Uomini e donne è tempo di nuove segnalazioni e le ultimissime news di queste ore rivelano che anche questa volta al centro delle polemiche è finito il corteggiatore Lorenzo, che come ben saprete quest'anno è stato l'oggetto del desiderio sia di Sara che di Niloufar. Entrambe le due troniste di questa edizione hanno perso la testa per il giovane corteggiatore che un po' ci ha giocato con questa situazione creando attenzione sul suo conto. Colpo di scena a Uomini e donne, Sara e Lorenzo, nuovi problemi in vista. Le ultimissime digossi privelano che dopo vari tira e molla Lorenzo ha scelto di prendere la sua decisione e di schierarsi da una sola parte. Il corteggiatore ha seguito il suo cuore che lo ha portato da Sara, sebbene la settimana prima aveva scelto di schierarsi dalla parte di Niloufar e di portare avanti il percorso con lei. Un cambio idea dovuto in primis alla decisione di Sara di andare a riprenderselo dopo aver visto che Lorenzo si stava avvicinando un po' troppo alla sua rivale. Da quel momento in poi Lorenzo ha messo da parte Niloufar, che tuttavia sembra non volersi arrendere a questo rifiuto, e ha portato avanti il suo percorso con la bella Sara. I due sono stati protagonisti di una serie di esterne romantiche dove ci sono stati degli avvicinamenti che per poco non hanno portato al bacio. La segnalazione bomba su Lorenzo. Tuttavia nel corso della puntata di Uomini e Donne di Oggi Pomeriggio abbiamo visto che Lorenzo ha perso le staffe nel momento in cui ha visto il filmato dell'esterna della tronista con Luigi. Tra i due cè stato un bacio e a quel punto ha scelto di abbandonare definitivamente la trasmissione e quindi di andare via. Immediata la reazione di Sara che lo ha accusato di essere un bambino per questo suo modo di comportarsi. Ma il colpo di scena di questa vicenda è un altro. Le ultimissime di oggi su Uomini e Donne, infatti, rivelano che su Lorenzo è stata riportata una nuova segnalazione bomba da parte di alcuni fan della trasmissione di Maria De Filippi, i quali lo hanno avvistato in discoteca a Milano in quelli che potrebbero essere definiti atteggiamenti sospetti. Nel dettaglio, infatti, Lorenzo è stato paparazzato in compagnia di una ragazza in atteggiamenti che potevano essere equivocati e ovviamente questa segnalazione ha fatto subito il giro del web e dei social, al punto che potrebbe essere oggetto di nuove discussioni nel corso della prossima registrazione del trono classico di questa settimana. Cancelletto Uomini e Donne Anticipazioni Cancelletto Sara e Lorenzo Cancelletto Uomini e Donne Anticipazioni Cancelletto Sara e Lorenzo Cancelletto Sara e Lorenzo